E' stata una puntata piuttosto piena quella di ieri 22 marzo 2018 al Maurizio Costanzo Show Piena perché? Piena perché c'erano molte persone presenti, tanti ospiti illustri, personaggi che ovviamente fanno parte del mondo della televisione italiana Io adesso te ne citerò solo alcuni ma non tutti perché sono convinto che qualcuno me lo dimenticherò Innanzitutto lui, Francesco Monte, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, diventato famoso per una questione che lo avrebbe riguardato E poi lei, Eva Enger, anche lei ex isolana proprio dell'Isola dei Famosi, nonché compagna a livello di isola Quindi collega di questa Isola dei Famosi 2018, anche lei ex naufraga E poi Pio e Amedeo, il duo comico di Foggia, Pugliesi Doc Pio e Amedeo, Amedeo Grieco e Pio Dantini che ovviamente erano presenti in studio Poi Nadia Toffa, la bravissima Iena del programma TV Le Iene di Italia 1 E poi lui, Paolo Ruffini, con la sua grande simpatia e la sua grande irrivelenza In compagnia del cast stellare di persone affette dalle sindrome di Down E che sono impegnate attualmente, siamo al 2018 marzo, nello spettacolo teatrale che lui stesso ha creato Che si intitola Up e Down E poi il papà di Francesco Monte, se non erro E poi però anche qualche altro personaggio che appartiene al mondo della TV italiana Ecco, io ho citato solo alcuni dei tanti ospiti presenti perché mi sono rimasti impressi più che altro questi Si è parlato di tante cose, Nadia Toffa è stata intervistata a metà serata circa Da Maurizio Costanzo che le ha chiesto un po' come stava Ha detto io vivo la vita e questo tumore, diciamo così, che si deve sconfiggere vivendo la vita Tra virgolette, così avrebbe detto la Nadia Toffa E poi c'è stato un momento molto carino in cui hanno ballato Nadia Toffa ha ballato con un ragazzo affetto dalla sindrome di Down Che ha manifestato proprio in TV ieri sera il fatto che a lui piace proprio Nadia Toffa E quindi c'è stato questo balletto molto piacevole tra lui e lei Poi c'è stato un balletto tra il papà, credo, di Francesco Monte e la bella Nadia Toffa Ed anche tra Pio e Amedeo Uno dei due si è messo a ballare con Eva Enger L'altro invece con, per l'appunto, Nadia Toffa E non Nadia Toffa, con, appunto, un'altra persona di genere femminile che è presente in studio Nadia è apparsa molto serena, molto tranquilla Anche se comunque un po' secondo me dimagrita è apparsa o piuttosto smagrita Secondo la mia opinione personale E poi si è parlato anche di questa compagnia teatrale Del fatto che il buon Paolo Ruffini è impegnato a teatro con questo spettacolo Questi ragazzi molto bravi, molto in gamba Sensibilissimi, visto e considerato che Down, secondo me, sono persone molto sensibili e buone Nonché per bene Oltre a ciò Poi ti ricordo che Si sono messi a parlare anche Di questo caso che avrebbe riguardato il buon Francesco Monte Quindi ci sarebbero state delle vere e proprie battute in studio Molto divertenti Infatti Avrebbero parlato proprio di Di quello che sarebbe accaduto all'Isola dei Famosi Eva Enger poi È stata chiesta a Eva Enger Qual è il piatto che va di più Qual è il piatto preferito da Mercedes Visto che anche Mercedes Enger, figlia di Eva, era presente in studio E ha detto che tutti in Ungheria conoscono il goulash Ma ci sono anche altri piatti che Mercedes, diciamo così, mangia perché gli piacciono Ecco, non è stata una serata malvagia quella di ieri, 22 marzo 2018 Perché, ripeto, tanti ospiti, il brio e la frissantesa di ognuno Che ovviamente si sono fatti ben vedere, si sono fatti ben apprezzare Ti ringrazio per l'ascolto e per la visione Il video termina qua Complimenti a Maurizio Costanzo Straordinario Conduttore TV Alla bella Mercedes Enger, figlia di Eva A Eva Enger A Nadia Toffa, la bravissima Iana della TV italiana A Ruffini, Paolo Ruffini Il ragazzo di Livorno, attore italiano Famoso anche per aver creato su YouTube Qua un format chiamato Sul Nido del Cuculo In cui egli, il buon Paolo Ruffini Doppia, in un modo tutto suo, in un modo tutto divertente Diverse famosissime pellicole Per strapparci una risata grassa e quindi grossa Ah, faccio presente che ieri era presente in studio anche Lino Banfi Che ha parlato della sua orecchietteria Avrebbe detto proprio che lui vuole che quando le persone vanno a mangiare Si divertano e questo si può ben notare quando si fa la sua orecchietteria Orecchietteria ubicata a Roma nel piano centro Dove tra una frase e l'altra in pugliese spinto Si può divertirsi ma anche i cibarsi in maniera davvero straordinaria Infatti vi ricordo che in questa orecchietteria Banfi ubicata a Roma nel piano centro Si leggono anche delle frasi tipiche dei suoi film, delle sue pellicole Bene, complimenti dunque anche a lui A Pio Pio Dantini e Amedeo Grieco Perché sono davvero due ragazzi di bravura infinita È il duo comico pugliese per eccellenza di Foggia Anche a Naya Toffa, a Bresciana Doc Il video termina qua Complimenti e un saluto Io ho riassunto in maniera molto molto sintetica La serata di ieri ma troppo ci sarebbe da dire E troppo ci sarebbe da aggiungere Io però mi limito a fare una sinossi O meglio una disamina molto sintetica E spero quindi auspico efficace Grazie e saluti Al prossimo video da Nara2Italiano